Buonasera amici di Youtube, questa è la mia canzone che io vi andrò a presentare. Canta con me, canta con me, questa canzone non fa per te. Canta con me, canta con me, questa canzone non fa per te. Canta con me, canta con me, questa canzone non fa per te. Canta con me, canta con me, questa canzone non fa per te. Il nuovo canso di oggi è assai curioso, si tratta di un cantante non cantante, o meglio, si tratta di me. Una cosa vi volevo dire, su quelle mani e cantate con me. Canta con me, canta con me, questa canzone non fa per te. Canta con me, canta con me, questa canzone non fa per te. Ormai lo sento, siamo quasi giunti alla fine, ma alla fine dell'appuntato, prima di arrivarci, ci abbiamo sempre l'ospite. Canta con me, e tra poco ve lo trasmetteremo, ma prima di andare all'ospite, cantate con me. Canta con me, canta con me, questa canzone non fa per te. Canta con me, canta con me, canta con me, canta con me. Canta con me, canta con me, questa canzone non fa per te. Canta con me, canta con me. Canta con me, canta con me. Canta con me, canta con me.